C'è la marca giuda, sei otta, ma sono giuda, no? No, regà, vanno via, va bene. Ilaria, no? Non era Sofia? È Sofia quella lì. È un po' forte, non è che si bruciasse. No, no, si brucia prima dei 400 lei. Infatti, forse non abbia capito che lei ha distanza ancora. Esatto, forse è un 200. Oh, tiene però. Forse no, eh. Oh, tiene. Per ora. Anna ha deciso che deve andarla a prendere. Anna ha il credito migliore, ma è di pochi centesimi meglio di un altro. Ma forse il Berve le ha detto fai la lepre, eh? Non escludo. Non escludo che sia una strategia di squadra, eh. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Lei odia i 600. Odia i 600? Sì, perché sono una via di mezzo... Non ce l'ha già detto, no? Non ce l'ha già detto. Perché sono una via di mezzo che le... Le squadre sono i 400. Sì, sì. Ok, è arrivata... Adesso rimuove la cattura del Paglio Prendete